Garage, scantinati e sottopassaggi sott'acqua, strade e campi allagati con frane e smuttamenti, semafori e viabilità in tilt. La pioggia battente e le forti raffiche di vento hanno provocato danni ingenti. Esondati il fiume Metauro alla Foce, il Foglia a Casinina e il torrente Arzilla a Carignano, dove per la settima volta il ristorante Ciavarini è finito sotto circa un metro di acqua e fango. Lungo la costa, invece, Viale Ruggeri chiuso ancora una volta a causa dei cumuli di ghiaia riversati sulla carreggiata. Tutta la zona sassonia è stata martoriata dalle onde, l'anfiteatro Rastat colmo fino all'orlo, pali di velti, rami spezzati e caduti in strada, decine di abitazioni allagate, in particolare in Via Cecchi, in Viale Adriatico, in Via Dante Lighieri a causa dell'acqua marina, che è risalita in superficie dal sottosuolo. Ma i danni peggiori si sono registrati in Via degli Schiavoni, che in tarda mattinata è stata transennata dai vigili del fuoco intervenuti con le idrovore, e in Via Fratelli Zuccari, dove molti residenti sono rimasti bloccati in casa. In questo momento mi trovo in Via Fratelli Zuccari, dove molti residenti non riescono in nessun modo ad uscire dalle proprie abitazioni. Guardate il livello dell'acqua, hanno i garage completamente allagati, la stessa situazione è davanti all'ingresso delle loro abitazioni. Ecco, com'è oggi la situazione? Malissimo, guarda, non avevo la luce, non avevo niente, fortuna, adesso ho rimediato, riesco... E questo è il mio garage dentro, che dovrò ancora aprirlo, non so com'è quello là frontalmente. Il mio garage si vede che già c'è tanta acqua, dovrò andare a vedere la sorpresa alla fine. Dentro il garage, vedevamo dall'altra parte, c'è quasi un metro d'acqua. Sì, io non ho il coraggio di vedere, aspetto i visi del fuoco, che mi vengono almeno a tirare un po' di acqua. Numerosi gli allagamenti lungo tutta la via, dove gli abitanti si sono svegliati in piena notte per andare a salvare gli animali in giardino, le auto nei garage, gli elettrodomestici, i mobili, e a gran voce sono tornati a chiedere provvedimenti all'amministrazione comunale di Fano. Quindi qua sono assolutamente necessarie le scogliere? Sì, guardi, è una cosa che ormai se ne è parlato già troppo, è ora che... Si passa ai fatti? Si passa ai fatti. Tutti gli anni, l'anno scorso, un pochino di meno, l'anno scorso c'è sempre la stessa storia. Qui se non ti fanno le scogliere siamo un abbandono totale. Il maltempo ha messo in ginocchio anche diversi stabilimenti balneari, come Bagninella, Fosseiore, Bagni Bagnacciuga, Traffano e Pesero, e Bagni Crida-Gimarra. La furia delle onde ha devastato tutto ciò che ha trovato sulla spiaggia, scardinando addirittura le passerelle. Problemi anche sul litorale pesarese, sia a Levante che a Ponente. Anche qui le concessioni di spiaggia sono state letteralmente devastate dalla furia del vento e dalle onde del mare, sollevando anche le cabine in cemento poste a ridosso della pista ciclabile. Staccionate e pattini sono volati come un castello di carte. A complicare la situazione è il vento forte con raffiche oltre 120 km orari, l'alta marea e il mare Forza 9 che ha impedito al fiume Foglia in piena di sversare a mare. Questo invece è quanto è successo al ristorante Rotonda Bruscoli. Noi siamo qui da circa 62 anni ed è la prima volta che succede una cosa di questo genere. Centinaia le chiamate pompieri che sono intervenuti anche per soccorrere automobilisti in panne o rimuovere alberi e rami caduti o pericolanti. Traffico a rilento lungo la Litorania che costeggia la spiaggia Ponte Sasso e Marotta, zone duramente provate dalle piogge della scorsa estate. Oggi l'acqua del mare in certi punti è arrivata fino alla statale, rendendo inagibili i sottopassi. Problemi nella notte anche alla circolazione ferroviaria, con ritardi dei treni fino a 40 minuti e la cancellazione di sei regionali. Violenti e mareggiate, infatti, hanno spinto detriti sui binari, specialmente su quello lato mare, tra Falconare e Ancona, e tra Fano e Marotta. Dopo i rallentamenti registrati tra le 4.30 e le 7.20 di questa mattina, il traffico ferroviario è tornato lentamente alla normalità. Lungo il tratto marchigiano della 14, invece, i mezzi pesanti, superiori ai 75 quintali, si sono dovuti fermare prima del casello di Senigallia in direzione nord, per le forti rafficate che hanno investito la Romagna. Chiusi ai tir, dunque, sia il casello di Senigallia, sia quelli di Marotta e Pesaro.